Sono Emanuele Trevi e vi consiglio di leggere un libro di Joseph Conrad intitolato Tifone. Tra i tanti libri di Joseph Conrad questo romanzo breve ha l'invenzione di un personaggio straordinario, il capitano McWeer, che è un uomo che è sempre stato fortunato, tra virgolette, nel senso che pur avendo sempre fatto rotta nei mari tropicali, nei mari asiatici, non ha mai incontrato un tifone, questo tifone che fa... ed è arrivato quasi a fine carriera, insomma. E a un certo punto si trova davanti questo fenomeno naturale, questa tempesta. Potrebbe evitarlo, potrebbe cambiare rotta, però dice una volta tanto nella vita perché vado dritto. Il mio onore consiste nell'affrontare pure questo. Non sarei un vero capitano, un vero marinaio, se almeno una volta nella vita non avessi affrontato un tifone. Quindi, pur potendo evitarlo, pur potendo far parlare una normale prudenza, lui fa il contrario. In questa cosa folle che mette a repentaglio la vita sua, del suo equipaggio, c'è un elemento straordinariamente poetico, che non è solo il coraggio, è proprio l'idea che la vita possa avere una sua completezza. Emanuele Trevi per Club Dante.